Dobbiamo attendere ancora qualche minuto perché il professore sta scendendo, l'ascensione è forse un po' di più, sono esatto, sono i piani da fare, quindi tra poco interviamo questa discussione, auguri di buon anno a tutti, auguri di chi si è fatto il primo convenio stamattina e secondo oggi, domani c'è il terzo, complimenti perché qui fino al lente troviamo una sala bella e spandata e quindi, perché gli altri due saranno freddo e il professore sta bene da regare, è bello che siamo in domanda, guarda, perciò il problema è vero, 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 è vero,